Altro fine settimana di bel tempo e ancora una volta movida sfrenata in diverse località balneari della provincia di Ragusa. Da Marina di Modica al porto turistico di Marina di Ragusa la storia si ripete, così come accade negli ultimi weekend, anche sabato e domenica assembramenti e passeggiate come se il virus fosse soltanto un brutto ricordo. Alla base certamente la voglia ormai troppa ad uscire in famiglia e godersi qualche ora di relax dopo messi di restrizioni ma la situazione almeno per quanto si legge sulle carte non permette tale rilassatezza. Enesimo fine settimana dunque simile a una qualsiasi giornata feragostiana con giovani, molti senza mascherina, a bivaccare e famiglie allargate a passeggio. Situazione al limite dell'immaginabile al porto turistico di Marina di Ragusa. Le foto parlano da sole. Più che assembramenti, un affollamento durante il primo weekend di zona gialla. Centinaia di persone ammassate, un'immagine sui social che ha il sapore di beffa per chi da mesi vive rinchiuso a casa con l'attività, vedi ristoranti, palestre, cinema, attività turistiche ed altri costretti a rispettare i rigidi protocolli sanitari. I numeri, afferma Confimprese con il ragionamento dei sanitari, non consentono tale rilassatezza e dare il segnale di un'apertura generalizzata sarebbe distruttivo. In realtà il virus è ancora forte e ha un potenziale di circolazione in alcuni territori anche peggiore rispetto a prima con le varianti che hanno raggiunto buona parte d'Italia. Il direttivo di Confimprese Iblea è pronta a farle barricate affinché le regole e le norme siano rispettate da tutti. Sono scene purtroppo già viste, denuncia il presidente provinciale di Confimprese Iblea, Pippo Chipinti. Non possiamo più tollerare comportamenti del genere che vanno a discapito di tutti. Le regole ci sono e vanno rispettate. Gli ingressi al porto, dove è mai continuo Confimprese. Durante la scorsa estate si sono registrati gli identici problemi e nelle aree della Movida vanno controllati con un'azione sinergica da parte del territorio. Ci sono aspetti poco chiari. I ristoranti, la sera, le palestre e tante altre attività chiuse per evitare i contagi aggiungono i componenti del direttivo territoriale di Confimprese e in giro sembra di essere a una festa patronale come nulla fosse. Siamo fiduciosi che il sindaco e il prefetto abbiano a cuore la salute della comunità.